Si lavora, sotto traccia ma si lavora. Lo stanno facendo già da diversi giorni il presidente Paolo Montemurro e colui che nell'ultima stagione ha ricoperto l'incarico di direttore dell'area tecnica, vale a dire Giuliano Antonicelli. Si lavora ovviamente per il futuro della Fidelis che sarà presente per la quarta stagione consecutiva. Ai nostri di partenza del campionato di Serie C, idee tante per il momento, nessuna certezza però. Tutto in pratica gira intorno al nome del nuovo allenatore, di colui che sostituirà alla guida dell'Andria Aldo Papagni. Le opzioni al momento sono diverse e le ipotesi circolate nei giorni scorsi sono tutte ancora attendibili. Uno sguardo inevitabile è stato dato anche all'organico. Si starebbe lavorando per il rinnovo del contratto con il difensore centrale abruzzese e con l'attaccante Riccardo Lattanzio che andrebbero a consolidare nuovamente l'ossatura di squadra costruita già nella seconda parte dell'ultima stagione insieme ai giocatori che resteranno legati al club biancazzurro anche a partire dal prossimo primo luglio. Le attenzioni principali per quanto riguarda i volti nuovi della Fidelis invece sarebbero concentrate sul reparto avanzato. Montemurro ed Antonicelli non vogliono sbagliare sull'attaccante e stanno valutando con cura dei dettagli diverse opzioni. Molto però dipenderà in tal senso dalla scelta del nuovo tecnico. Non ci sono più dubbi invece su chi sarà l'allenatore del Potenza che ha deciso di ripartire da Nicola Ragno, il timoniere della promozione in Serie C. Per il Molfettese sarà di fatto la prima esperienza in carriera tra i professionisti. Stesso discorso per il nuovo direttore sportivo dei Lucani Vincenzo De Santis che tornerà così a lavorare insieme a Nicola Ragno dopo l'esperienza ad Andria. Panchine sistemate anche a Monopoli con la conferma di Beppe Scienza e alla Virtus Francavilla con la Prodo di Nunzio Zavettieri.